Ciao da Avsim! Dobbiamo parlare del fatto che dopo Milan-Napoli, non quella di ieri sera in Coppa Italia, ma quella di sabato finita 0-0 in campionato, c'è stata una sanzione del giudice sportivo nei confronti della società Milan di 15.000 euro di ammenda per cori insultanti di matrice territoriale. E indovinate nei confronti di chi? Ne parliamo dopo che avrete fatto un salto in descrizione per passare sul primo link ed aprire ed entrare nella mia raccolta fondi in favore di AIL per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue, iniziativa a cui ho dato vita in occasione del mio trentesimo compleanno che sarà chiusa domani, 31 gennaio, quindi avete ancora poche ore, pochi giorni per donare il vostro contributo e far diffondere la raccolta fondi. Grazie. La sanzione nei confronti del Milan è arrivata dopo i cori che si sono sentiti a San Siro all'indirizzo ovviamente del Napoli e dei napoletani. La solita storia, la solita storia in che senso? Nel senso che stiamo parlando, diciamo, siamo a cavallo tra razzismo e non razzismo. Ormai si sta facendo di tutta l'erba un fascio. Cioè, cori insultanti di matrice territoriale è una dicitura che comporta delle sanzioni ormai in maniera consolidata nella giurisprudenza sportiva, ma non è una cosa che si è mai veramente chiarita. Perché poi ci sono cori insultanti di matrice territoriale, ma ci sono anche cori insultanti ben peggiori, che siccome non sono di matrice territoriale non comportano nessuna sanzione. E allora che cosa stiamo facendo? Stiamo ripulendo il calcio dagli imbecilli? Stiamo ripulendo il calcio dagli idioti e da chi insulta? O stiamo semplicemente andando a dare delle sanzioni così un po' a caso, ma guarda caso, guarda caso sempre a tutela della stessa squadra? Perché il problema è questo. Il problema è che vi basta andare su Google e cercare Cori, Napoli-Milan-Cori. Scrivete proprio su Google Napoli-Milan-Cori e trovate non solo le notizie dei Cori che sono stati fatti, sarebbero stati fatti, diciamo sono stati fatti sabato, perché io non li ho sentiti, sabato, ma magari ci sono stati, non voglio dire che non ci sono stati, sabato in Milan-Napoli, ma trovate anche tantissimi articoli di queste ultime ore dei Cori che si sono sentiti ieri durante il Milan-Napoli in Coppa Italia. Io ho guardato la partita, non li ho sentiti. I giornalisti Rai si sono affrettati a sottolineare, ci sono stati bruttissimi Cori contro il Napoli da parte dei voci del Milan, guarda caso, lo sottolineano sempre e quindi se ne sta parlando ampiamente. Ci sarà quindi probabilmente un'altra sanzione nei confronti del Milan anche in Coppa Italia, non lo so, vedremo, lo sapremo credo venerdì. E poi però va detto che se invece cercate su Google Napoli-Sassuolo-Cori, non trovate un cazzo, non c'è niente, non c'è niente. Eppure quei Cori lì li abbiamo sentiti tutti, sto parlando di Napoli-Sassuolo, di Coppa Italia del 12-13 gennaio, non ricordo esattamente, gli ottavi di finale, i tifosi del Napoli verso la fine della partita con il Sassuolo hanno cantato Milano in fiamme, Milano in fiamme, un solo grito, un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme. Perché Milano in fiamme non è un coro di discriminazione, un coro insultante di matrice territoriale? Me lo dovete spiegare, io non lo so, ma lo chiederei al giudice sportivo, che il 16 gennaio 2019 nel suo comunicato con le sanzioni disciplinari, quindi relativi alla giornata di Coppa Italia, agli ottavi di Coppa Italia, non ha sanzionato la società Napoli, zero sanzioni, niente di niente, non se n'è proprio preoccupato. I giornalisti Rai dove erano quando i tifosi del Napoli hanno cantato Milano in fiamme? Perché non hanno sottolineato anche quel caso lì? E allora siamo veramente a due pesi e due misure, anche perché Ancelotti, in occasione di Napoli-Sassuolo, prima di Napoli-Sassuolo, nella conferenza pre-partita, aveva detto, a precisa domanda, la nostra intenzione è interrompere la partita, fermarci, interrompere temporaneamente la partita, nel caso di cori insultanti, nel caso di cori razzisti. Perché non è stata interrotta Napoli-Sassuolo in occasione di quei cori lì? Perché quei cori non comportano l'interruzione della partita? Qual è la regola? Io vorrei capire qual è la regola. Quindi veramente siamo alle solite, io ne ho parlato già tante volte su questo canale, ma volevo parlarvi anche in questa occasione perché la cosa mi dà veramente fastidio, mi disturba. Stiamo andando completamente alla deriva. I più tutelati d'Italia sono i napoletani, i napoletani sono i più tutelati in Italia per quanto riguarda il calcio, e direi non solo, sono ipertutelati. Toccate un napoletano, arrivano addosso le cavallette, loro possono fare il cazzo che gli pare. E questa mia affermazione non è un'affermazione discriminatoria, è una constatazione della realtà, ve lo sto dimostrando. Se cercate Napoli-Milan-Cori, trovate articoli pure sul giornale, non lo so, di Cucina, Napoli-Sassuolo-Cori, niente, 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 nessuno che l'abbia riportato. Eppure li abbiamo sentiti tutti. Perché Milano in fiamme non è meritevoli di attenzione e di sanzioni? Questo veramente non lo capirò mai. Va cambiato il codice di giustizia sportiva, va eliminata la dicitura dei cori di discriminazione territoriale, perché della discriminazione territoriale non fotte un cazzo a nessuno. L'unica discriminazione territoriale è quella nei confronti dei napoletani. Per gli altri non vale. Se dicono Juventino, Ciuccia, Piselli, nessuno si indigna e non è una discriminazione solo perché non è territoriale. Ma è un insulto peggiore. E non viene sanzionato, non sono stati sanzionati neanche gli striscioni odiosi nei confronti della gente morta, che fosse Juventino o di altre squadre. Quelli non vengono sanzionati. Questi altri sì. Allora il codice di giustizia sportiva da questo punto di vista è fortemente lacunoso e lo sto trattando. Lo sto usando proprio un termine veramente politically correct, che non mi appartiene, ma mi mantengo pagato. Su questo va riformato e va eliminata la responsabilità oggettiva. Punto. L'ho detto un milione di volte e vi rimando ai miei video in cui ne ho già parlato. Parliamo nei commenti, ditemi la vostra. Passate in descrizione per donare, per la raccolta fondi, in favore di AIL, per la ricerca contro le malattie del sangue. Ci vediamo presto. E sempre Forza Juve. Grazie. Grazie a tutti.